Ciao a tutti e benvenuti da Tina e Pippa View E oggi siamo qui con un video in collaborazione con Mod4U Sì ragazzi, questo splendido sito ci ha omaggiato di questo pacchettino che non abbiamo ancora aperto, lo apriamo insieme a voi e appunto per scoprire insieme che cosa ci hanno inviato Allora, noi sappiamo già che questo sito, appunto Mod4U, è pieno veramente a tantissimi squishy E già ragazzi, perché anche i gelatini sui schiaccio qua, perché poi ci sono cose tutte scritte in giapponese Ok, e appunto è pieno di squishy, vero Pippo? Sì Sì, e io e Pippo lì adoriamo gli squishy Quindi se anche voi amate gli squishy, assolutamente dovete visitare questo sito, appunto Mod4U Il sito è www.mod4u.com Comunque vi lasceremo il link qua sotto nell'info box E vi lasceremo anche il link dove appunto cliccando avrete tutti gli squishy Tutti gli... potete vedere tutti gli squishy di questo sito, vero? Sì, possiamo aprire Ok, adesso direi subito di aprire Quindi ringraziamo ancora questo sito, ma siamo molto molto curiosi Non c'è nessuna cosa Vai Allora ragazzi, siamo curiosissi Ah no, il pacchetto Uh, vediamo un po' Oh mamma, cioè guardate la bustina Fili Cioè fai vedere la bustina È bellissima, super cute Vai, vai, vai Vale Vale Sì? C'è dentro un bustlet Oh mamma Aspetta, non aprire le altre cosine Cioè ragazzi, questo qui Oh mamma È un... vediamo un po' se ho ragione Sì? Aspetta Pippo prima di far vedere le altre cosine È un washi tape mi pare che si chiama Comunque uno scotch Tutto con queste decorazioni Che serve per decorare le agende Dei quaderni, diari Vero Pippo? Sì Sì, quindi Cioè bellissimo Poi rosa pizza Col pizzetto, bellissimo Poi seconda cosina Ragazzi, la prima è la fragola Wow, una fragola squishy Allora, apri Pippo Facendo molta attenzione Sembra un portachiavi ragazzi Vediamo un po' Aspetta, fai molto piano Ti piace Pippo? Sì Sì, è bellissima Vediamo un po' Sembra che è anche della crema sopra Questa fragolina Aspetta Pippo, ti aiuto Aspetta È morbidosissimo Sì, fallo vedere Oh mamma ragazzi Cioè praticamente appunto Un portachiavi Potete metterlo Potete appenderlo allo zaino Alla porta della vostra cameretta Alle chiavi Qualsiasi cosa Cioè guardate che bella Super squishy Super morbidosa Poi Il panda No veramente Sì Oh mamma il panda Cioè io e Pippo Cioè io e Pippo amiamo il panda Vero Pippo? È uno dei nostri animali preferiti Tipo i squishy Aspetta che si aiuta Così lo apriamo velocemente No Ecco Corbici No che bello il panda Ragazzi Mamma mia Che belli questi squishy Eh ma il panda Se va al cattivo Lo buttiamo Va al cattivo Ok Pippo Vediamo un po' com'è Come il morbido Sì Sembra di essere al mare Aspetta piano È anche lui il cordino Oh mamma Wow ragazzi Cioè guardatelo Che cosa stupenda È questo panda Poi al cordino Appunto potete attaccarlo Come la fragolina Dove volete Cioè Che bello Super squishy Poi Una torta Una torta Vediamo un po' Piano piano eh Ok No non fare vedere No male L'ultima cosa Ah ma c'è un muclet Dopo 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 lo apriamo Lo vediamo un po' Allora Ma a lei L'ultima cosa Ma a lei Ti piacerà Ti piacerà Ma a parte a me Stanno piacendo Tutte queste cose Cioè Sono tutte bellissime ragazzi Vediamo un po' Che bello Togli il Questo qui Il cartoncino Vediamo un po' Io parlerò di La fogliola Tutto a tempo Sì Che bello Cioè Ah la fragolina La panna Tutta il cioccolato Guardate come squishy Ragazzi Cioè E anche lui Al cordillo Vale vale L'ultima cosa La ciambella La ciambella Cioè Guardate che bello Con la salsina Verde Come al pistacchio Cioè Ma guardate E' enorme questa Bellissimo Ok abbiamo finito Vediamo un po' Ah c'è Un bigliettino Ah del loro sito Perfetto Così ve lo facciamo vedere Se volete andare a curiosare Questo bellissimo sito Appunto www.mod4u.com Che bello Che bello Cioè guardate Bellissimo Anche il bigliettino Appunto qua dice varie informazioni In inglese Ma comunque vi lasceremo il link qua sotto Basta che andate E vedrete tutte e tutte le informazioni Ma è bellissima Allora ragazzi Vico Sì West tape Bellissimo Sì Totte Bellissime Pagola bellissima Panda bellissima E su me le bellissime Tutto bellissimo Ecco qui tutti i squish Che abbiamo trovato Bravissimo Pippa Eccoli qua Tutti i nostri squish Quattro squish Più lo scotch E tutto decorato E abbiamo messo anche il loro appunto Bigliettino da visita Se così Lo possiamo chiamare Con tutte le informazioni Di questo meraviglioso sito E io mi mando il panino Ok che dire ragazzi Sono tutti stupendi Ringraziamo ancora il sito Mod4U Grazie mille Ok Tra l'altro ragazzi Tra un po' Ci sarà un altro video squishy Vero Pippo? Sì Sì Quindi aspettatevelo In questo periodo Inoltre oggi Saluta alcuni di voi Ok mentre Pippo mangia gli squishy Vorremmo salutare alcuni di voi E in particolare Giulia Sapienza Che ha fatto il compleanno Il 27 marzo Quindi Un grandissimo bacio a te Ok Pippo adesso metti giù gli squishy Manda un grandissimo bacio a Giulia Tantissimi auguri Poi Valentina e Massimiliano Parmiani Gabriele Cammarata Dark Blakes Anna Maria Collu Video Slime ASMR Federic92 Itasole e Luna Giacomo Russo Brichena Toli Aurora Morrone Vito di Palermo Vito di Palermo Che vuole essere salutato da Pippo Ciao Ciao Vito Poi Marcus Potter Giovanni Che ha 8 anni Vaporeon Sflareon Filippelli E io c'era 5 Non è giusto Vaporeon Sflareon Filippelli Giata e Antonio Nicolini Mimi 07 Grigore Monica Russotto E Sofie Pony Dino Pokemon Channel Quindi Un grandissimo bacio a tutti voi ragazzi Vi mandiamo un enorme bacio e abbraccio Vero Pippo? Io in questo video lo voglio mangiare perché ho tanta fame Ok Quindi se è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su Se siete iscriviti in nostro video Non vi voglio tanti attività in questo video Vosti a riuscire a mentire La stessa bomba Bravissima Pippo Grazie a tutti i bellissimi commenti come fate sempre Noi vi ringraziamo tantissimo Mi raccomando spolliciate Tantissimi pollici in su E Quindi mettete tanti pollici in su se vi è piaciuto questo video Ma anche se vi piace questa sezione Shopping Così faremo tanti altri video Quindi saluti da Tina e Pippo e amici al presidio Ciao Grazie a tutti i bellissimi in su Grazie a tutti i due Grazie a tutti i due Grazie a tutti i due